A Piazza Madonnina ieri sera si è svolta un'assemblea aperta a tutti i cittadini, indetta dal Comitato Battipaglia di Cenò. La mobilitazione è stata necessaria dopo che sono circolate le notizie secondo le quali Battipaglia sarebbe stata scelta come sede per un sito di trasferenza. Il Comitato e i cittadini hanno chiesto che la Regione scongiuri tale indiscrezione. Nel mentre sono pronti ad una nuova fase di lotta e di mobilitazione che coinvolga l'intera cittadinanza insieme all'amministrazione comunale. È stato ribadito al Sindaco che attui il blocco immediato di tutte le attività connesse col CDR, dal transito dei camion su tutto il territorio cittadino sino alla chiusura dell'impianto.